Camford Rose l'ultima ad entrare, si aprono le gabbie e con un salto Camford Rose perde l'attimo ma comunque si ricongiunge velocemente davanti ci va Miss Bombay che si trascina in seconda posizione Orlean, in terza c'è Ponza, in quarta invece parla con la Luna, in quinta la giubba bianca e cap rosso di Laives che ancora più all'esterno ha quella di elettronica, poi chiude il gruppo Appia Claudia insieme a Camford Rose Camford Rose la favorita, retta opposta condotta da Miss Bombay che sta imbastendo un ritmo abbastanza regolare, in seconda posizione al suo esterno c'è parla con la Luna, tra questi anche Ponza, poi in quarta all'interno Orlean con ancora più all'esterno invece elettronica, Camford Rose e Laives che chiudono un gruppo, in questa fase ben raccolto quando siamo a tre quarti della piegata, Miss Bombay che conduce nei confronti di parla con la Luna, si avvicina anche Ponza con all'interno Orlean in quarta corsia, c'è elettronica all'esterno di Camford Rose, poi ancora Laives in questa fase Appia Claudia che perde qualcosa, parla con la Luna, dislancio, si getta all'inseguimento di Miss Bombay, stessa cosa fa Ponza, queste tre si staccano in lotta quando mancano 400 metri dal palo, ma non sono loro due perché c'è anche Orlean, Camford Rose alla ricerca di spazio, elettronica allo steccato opposto, Ponza in questo momento è in vantaggio, attaccata all'interno ancora da Miss Bombay, scatta anche elettronica all'esterno di tutti, è vitale anche Camford Rose, ma Ponza a cento dal palo ha risolto abbondantemente la contesa e lascia le altre lottare per le piazze con Camford Rose che emerge su elettronica. Quick double per Dario Vargiù che dopo il Roma dice anche questo handicap in giornata, 62,5 kg per la femmina del team Botti, i colori sono quelli della Quafin, la quota al totalizzatore è di 6,07, ho visto una monta davvero impeccabile vicino alla testa e Ponza che scivola via per la vittoria lasciando al secondo posto Camford Rose e dal terzo elettronica, è tutto per la sesta. Grazie a tutti.